Stefania Stella, Rick Giannasi, Ugo Pagliai, David Warbeck, Alida Valli, Giorgio Albertazzi, Ciccio Ingrassia, Linea Quigley, Rossano Brazzi, Donald Pleasance, effetti speciali del premio Oscar Steve Johnson in un thriller senza film. Stefania Di Giandomenico presenta Fatal Frames, fotogrammi immortali, regia e musiche di Al Festa, l'estremo limite del brivido. Grazie a tutti.